Benvenuti ragazzi, sono Anchisius e io sono Alex e oggi continuiamo con Crysis 3 E quindi niente, dall'ultimo volta mi avevamo fatto esplodere quei cosi che qua, perché posso anche afferrare, mamma mia Lancioli, voglio vedere che volano, falli volare, falli volare Ok, non è il volare che devo volare Allora ragazzi, abbiamo trovato già due bug incredibili di Crysis, il primo che... Il ponte, il ponte che non si può cadere E il secondo sono le armadietti che volano Ok, io direi di buttarmi giù Bravo Cos'è questo? Ah, si può disattivare, bene 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 Bene, trovo un'arma decente, di prego Trovo un'arma decente Modulo potenziamento nanotuta Dove? Non so, ce l'ho scritto lì Grazie, è esploso tutto Bazzucca, bazzucca mio, mio, amore mio E prendiamo l'altra arma No, l'altra ho detto Ok Cos'è questo, è un accampamento di civili? No, terra rossa proprio È morta, sono morti tutti Dove devi andarvi? Buttare No, devo andare la Con un salto la Aspetta, io ho paura di questo posto Tanta, fa tanto imboscata Oddio cos'è? Dumbaghi Dumbaghi Dumbaghi, amore mio Perché ricarichi che ti hai detto di usare? Usare? Usa? 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 E getta? Dumbaghi Oddio stai implodendo quali cazzo Oddio cos'è? Dumbaghi Dumbaghi Io vado finiti adesso Allora, mi faccio vedere Ok, mi ha visto Dumbaghi Non lo so, mi ha visto qua Quello lì Dumbaghi Quale? Dumbaghi Oddio quello lì Quello lì Quello lì Quello lì Quello lì Quello lì però ti sto sparando mi spari ancora mi spari ancora cioè ho provato un tunnel così a casa corri il tunnel della morte la serata sai che sei a due chilometri no a due cento cioè puoi non puoi alleluia credi di fargli male con quella armetta qua eh no però ci provavo credi di fargli qualche graffio perchè hai cambiato il minimo? perchè hai cambiato anche arma guarda! no! non è che mi è ah! cosa ha fatto? oddio c'ha l'aura quel tizio ha un'aura potentissima tu muori! tu muori! no con lui non hai la merda oddio parola energetica che cazzo è? dov'è andato? dov'è andato? guarda la parola energetica alla testa ti sparo capito? ti sparo la testa è morto ok no non è morto 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 anche quando il tizio va dietro non so non è fottutamente amicena sei non è così semplice mi sparo un fottuto rapo gigante immortale aggiungiamo ok ok ci sono ci sono apriti sesamo è un bazooka è un bazooka sì è un bazooka un bazooka è un'arma che si raccoglilo raccoglilo dov'è? c'è un'altra arma l'avrai già preda? forse c'è un volatizzato veramente dov'è? una ruota bene abbiamo una ruota chef eh ti stanno vedendo molto molto addirittura cos'è qualcosa di più? ah forse c'è la scala c'è la scala lascia stare vai sulla scala dove è la scala? lì quella non è una scala ah è una scala sai che è uno semplice lascia stare i tizi e poi c'è la scala va bene ci sto andando e lì c'è qualcosa altro cosa esclusivo no lì no no vabbè lì e dopo vai dritto e dopo a sinistra ecco qua e Ale perché Ale lancia un altro tre lanciaranti ragazzi vai vai recupera i dati fermo dove? qua ah con le allora c'è una guerra e allora lasciano l'ipad lì così apri apri questo posto c'è un ascensore ah devo aprire? si ah perché io so che devo aprire prima che ti inculito allora ho aperto la diga avevo ragione io è di qua l'obiettivo un dupaki un dupaki un dupaki salici salici due c'è una dupaki ah questo è un utilizzabile ok però lì hanno deciso che anche questo ma scher... ah perché forse non potremmo ok adesso ha senso adesso ha senso ok sono andato lì e dopo questo com'è che spazzisci lì? come questo morchia miseria io non sono veramente un po' pilota ragazzi sono una forza molto accidentata vai vai oddio sta laggando tutto si bello un po' di explosivi ma fanno sempre bene le explosivi fanno sempre bene oddio dove sono andato? dove sono andato? non lo so tu corazzati il momento di merda con questo tu puoi colazzarti nel tunnel eh? torna, 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 torna bello tipo due vedete il salto del signore torna, torna, torna un paio di chilometri solo un paio se non pensi per questo pezzo sia lì fa così perchè se no, fa così ok così è molto più divancata ma c'hai le munizie definite non lo so dove sono qui? ah, lo fa il giro? no, non credo che... Ok, no, non spariamo! Sì, ma se ti spari addosso da solo... Oh, vuoi sparare più? Ah, va bene, avevo finito le punizioni, ma avevo finito anche il mio amico. Ok, amico, io adesso ti bazzucco, va bene? Più di una volta, se non l'hai capito! Più di una... Ricarica! 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 Non può morire, non basta! Io voglio che muoia! Hai visto che hai morto? I due golpi e due azucca, porca di... Oh, 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 oh! Urtaio, oh mio Dio! Adesso... Basta! Basta! Guarda, guarda quest'arma quanto è epica! Ma io non so quanto è epica, però voglio usare... dove sono i vicini? Lì! Vivo! Ok, era vivo! Oddio, ti sta sparando! Ok, questo cecchino è potente! Decisamente! Sai anche la tua ombra da... Morfaiga! Cannone rapper? Cos'è il cannone rapper? O è una nitraditrice, boh! No, forse è uno! Prova! Oh! Quest'arma! Quest'arma! Ma non l'ha ammazzato! Ma non l'ha ammazzato! Cioè, perché... Wuhuuu! Ok, dimmi che è morto! Ok, sono anche in cazzo! Beh, dovrei sprecato 300.000 colpi! Per ammazzare un soldato! Ti devo liberare un po' la piazza? Tipo, ci sono tre minchioni lì! Porca mia! Se vuoi! Hai finito il polizio! Ok, Alan, ti lascio nelle tue mani! Dopo avermi incasinato! Grazie! Prego! Proprio grazie, ma... Chi è quello che sta facendo fuoco e fiamme? Non lo so, ma non voglio fermarmi a guardare! Ah, qualcosa lì! Che... Ti sei andato in qua! Oh! Com'è che ti stava incendiando? Ah, qua si... Si apre... Eccolo qui! Viola lo coglioni! Ne ha quattro! Ne ha cinque! No! No, 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 no! Ma perché non ti stai incendendo il polizio? Perché sono coglioni in volto! Oh! No! Oh! 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 Tu non mi vecchi! Apriti! Fai tutta porta! Apriti! Muoviti! Apriti! Ho gli sletti maledetti! Apriti! Vai! Passa dentro che puoi fargela! Vai! 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 A quel paese! Lo so! Perchè la testa gli passa nel divano? No! 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 No!